ciao ragazzi sono gabilo oggi ci siamo c'è sempre questo gioco bello c'è dove c'è delle piante che sono più forti c'è zombie c'è che sono delle delle persone però morti dunque scatola non è detto di no aspetteremo c'è che passa esplodi c'è che cerco avranti due esplodi c'è dammi la pianta lancia boomerang c'è che qua avranti due che bel tizio minchia soldi c'è quindi c'è c'è vuoi dire aumentato c'è aumentato di livello o di velocità non lo so ehi fotte cazzo toguiti che palle c'è non posso andare c'è subito che devo fare quello che dice lui posso andare a giocare che voglio e mai lo finiremo andiamo con calma c'è perché c'è ovviamente c'è qualche partita ma per i fatti miei non la farei guardi partenza pianta possiamo velocizzare velocizziamo c'è sì uomo poi da un'altra pianta dammi qualche più luce non ti credito nessuno bello non ti credito non ti credito non ti credito bello, troppo bello anche in due ce ne mette questa, bellissima la pianta c'è la pianta c'è che ho aumentato di livello, quella c'è che spara palle dalla bocca, la prima pianta che ti da quella c'è che ho potenziato ma ehi, c'è sto forse, c'è poi fotte cazzi c'è sti cosi che sono c'è si minchia livello successivo a me proprio frega bello ma lì buongiorno 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 Qua c'è le piante c'è un peccato che non ci sono perché a me piace più le piante c'è l'ultimo, c'è sti cosi c'è un po' carico la pianta che ghiaccia c'è si provvede usando i potenzialanti buono, tanto meglio c'è un peccato che si chiama il negozio c'è un peccato bello ci credo c'è proprio c'è di chiamare c'è questo episodio c'è questo episodio di piante contro zombie ah c'è bello ok questo c'è questo grazie che mi dai così pronto bello bello è molto più veloce questa che trovate anche voi è molto più veloce è molto più veloce c'è vabbè altri sensori c'è osserviamo che fa ce lo congela ce lo congela un qualcosa dai nessuno ci può battere sai ghiaccia c'è almeno due file c'è devono esserci perché ok c'è ragazzi quindi c'è c'è che vi posso dire c'è iscrivetevi mettete mi piace condividete ricordatevi di iscrivervi e niente ma che palle il moneto acquistato il negozio c'è però non c'è sopra il baffone nulla la mina ci metto e vaffanculo c'è quindi ragazzi ci vediamo aspettate un attimo aspettate che cazzo c'è ho trovato un germano l'ho fatta e cazzo ciao